Musica Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Io sono Daman Colleziona e benvenuti sul mio canale. Vi ritrovate ragazzi, oggi parleremo di prodotti Funko. Vi mostrerò questa prima parte dei miei prodotti Funko Shop che ho comprato in abbonamento da Popinabox. Qualche tempo fa ho attivato un abbonamento di 12 pop per un mese e mi è arrivata la prima parte. Mi è arrivato questo paccozzo qui contenente 8 pop dell'abbonamento classico di Popinabox. E quindi mi è arrivata questa prima tranche 8 su 12. Come avete potuto vedere il pacco è aperto perché con Popinabox bisogna sempre stare in allerta perché le spedizioni e l'imballo di Popinabox non è proprio sempre ottimale. Ci sono sempre delle magagne con PAB quindi l'ho voluto aprire un pochino prima per vedere se stava tutto a posto. Qualche magagnetta c'è ma complessivamente hanno messo almeno il plurinball hanno messo le bolle per cui gran parte degli prodotti sono arrivati perfetti, puliti, senza nessuna maccatura. Io vi ricordo che se mettete questo codice qui sotto che vi compare qui sotto potete avere un 10% di sconto su Popinabox. È praticamente un raccomando a un amico. Voi ottenete il 10% di sconto e a me danno mi sembra tipo 3 euro per ogni utente che utilizza questo codice sconto. Per cui beneficiate voi ma beneficio anch'io ed è un modo carino per supportare anche il canale. Per cui se volete aiutarmi a crescere qui sul canale, se volete comunque ottenere uno sconto vi consiglio di utilizzare questo codice che vedete qui sotto in modo da avere un aiuto reciproco e aiutarci a vicenda. Proseguiamo con i prodotti che mi sono arrivati. Come vi ho detto l'hanno imballato molto bene perché guardate hanno imballato col pluriball tutto in maniera impeccabile. Anche Popinabox sta migliorando da questo punto di vista. L'unico ne ho forse che devono migliorare un attimino sul fatto pollice in su, pollice in giù perché mi sono arrivati alcuni Pop che non erano del tutto richiesti. Però vabbè, sono comunque edizioni speciali che mi hanno mandato e me le faccio andare bene. In particolare questo Pop qui di Dragon Ball Super. Questo qui è Super Air Cool Pop 818, Banco Pop Animation, incentrato sulla web di Dragon Ball Super della terza serie, della versione sequel di Dragon Ball Z. Io il personaggio non lo conosco, onestamente non lo conosco, non so chi sia. Dovrebbe essere un personaggio di un altro universo del mondo di Dragon Ball Super. Non lo conosco, non era richiesto. È arrivato grossomodo tutto perfetto, tranne un attimino gli angoli, un po' così. Però complessivamente è tutto perfetto, senza nessun difetto. È anche una versione Gloss in the Dark, per cui è speciale e me la faccio andare bene. Anche perché colleziono i Pop di Dragon Ball, non li colleziono proprio tutti. Mi soffermo sui personaggi che mi piacciono di più, ma complessivamente mi è andata bene perché a me Dragon Ball non dispiace, per cui ben venga. Ed eccolo qua. Gloss in the Dark, super cool. Poi vediamo, mi è arrivato, questo qui era richiesto, era voluto. E sono contento perché è andato fuori catalogo, si trova un po' con difficoltà. Tutti i Pop a tema One Piece si trovano con difficoltà. E questo qui mi mancava, ormai ne ho un bel po'. Ed è il Pop Animation 398, incentrato su Sanji, sul cuoco della ciurma di Cappello di Paglia. Uno dei personaggi più belli, uno dei personaggi cult, uno dei primi ad entrare nella ciurma di Cappello di Paglia. Il nostro cuoco che mina coi calci. Ha una gamba lunga, una gamba bella infuocata. Ed è un bel personaggio. Il Pop è arrivato perfetto. E fa parte di questa serie di quattro Pop della Wave di One Piece, che è divisa in più Wave. Io ho solamente Azov e mi mancano Nico Robin e Don Flamingo. Mi mancano questi due Pop. Il Pop è molto bello. Troviamo il rosso, le fiamme rosse, per la sua celebre mossa, per il suo celebre attacco con il calci. E poi lo troviamo con l'iconica sigaretta. Perché è un po' come Jigen di Lupin III. È uno di quei personaggi che fuma e che ha sempre la sigaretta in bocca. Conto di reclutare altri Pop a tema di One Piece. Sia quelli di questa Wave qui storica, vecchia, che quelli di prossima uscita della nuova Wave. Proseguiamo con un altro personaggio che non avevo richiesto, ma è un bollinato Pop in a Box. Per cui è un'edizione speciale, esclusiva per loro, per P.A.B. Ed è Carla Unger Carnage della serie Venom. Proveniente dal mondo dei fumetti di Venom. Il Pop a me non interessa. Probabilmente lo venderò, lo scambierò, ci farò qualcos'altro. A me il Pop non mi interessa. Nonostante io sia un fan di Carnage, sia un fan di Venom. Questa iterazione a me non piace, non mi interessa. Fa parte anche di una Wave bella, lunga. Ed è un personaggio Marvel, una sorta di antieroe, di arcinemico, di Spider-Man, di Nemesis. Dell'Uomo Ragno, per cui è bollinato Pop in a Box. Per cui è una bella esclusiva, un bel Pop comunque da avere in collezione. Momentaneamente lo aggiungo in attesa di trovargli una bella sistemazione. Anche lui è arrivato tutto perfetto, tutto in tonso, senza nessuna sbavatura. Quindi ci sta. Poi proseguiamo con Gromit. Questo mi interessava. Io avevo comprato il Pop di Shaun of the Ship, della pecorella Shaun, proveniente da questo universo britannico fatto di plastilina, dell'omonima serie Wallace e Gromit, che poi ha dato vita anche a una serie spin-off, Shaun of the Ship, che mia nipotina adora alla follia. Infatti il Pop glielo ho regalato a lei. Però un po' per mania di collezionismo, un po' per completezza di tutto, vorrevo recuperare gli altri due personaggi, ovvero Wallans e Gromit. E in questo abbonamento Pop in a Box mi è arrivato Gromit, il cane. È un personaggio carino. Alla fine sono molto easy pop di questa wave. Non sono così abbozzati. Sono tutti molto semplici, anche come posa. non hanno tanti accessori particolari. Anche qui il cane Gromit è molto così easy, semplice. Niente di eccezionale. Anche Wallans sembra molto lineare, senza grosse sfumature dettagliate. E quindi l'ho aggiunto, probabilmente lo darò a mia nipotina, che così concluderà questa wave su Wallans e Gromit. Proseguiamo con un altro pop che mi interessava. Non era proprio un pop che volevo tutti i costi, infatti avevo messo il pollice verde in su, perché ho pensato prima o poi lo recupererò, perché mi interessa, ma mi interessa il giusto. Quindi se lo recupero in abbonamento a buon prezzo, bene, altrimenti pace. Ed è questa versione bollinata Wondrous Convention dello Stormtrooper, esclusiva pop in a box, molto bella. Mi piace questa scatola qui, che è diversa dalla scatola precedente. Ha una sorta di scatola un po' gommosa. Questo nero qui è un po' più liscio, un pochino più gommoso rispetto alle precedenti scatole. Non fa parte di una wave vera e propria. Praticamente lo Stormtrooper, in questa mimetica qui militare, metallizzata, molto molto bella. È l'ultima edizione del Wondrous Convention del 2021 di qualche mese fa e anche lui è arrivato perfetto, senza nessun difetto. Davvero fantastico. Mi manca questo personaggio qui in collezione, per cui ho preferito optare per questa edizione qui speciale, Wondrous Convention 2021. Stormtrooper del mondo di Star Wars. E arriviamo a un pop che invece mi è arrivato scassato. Anche questo è un pop che mi interessava, ma mi interessava il giusto, nel senso che mi piace molto la trilogia di Ritorno al Futuro. Sono un grandissimo fan, un grande appassionato di Doc e Marty, ma è un pop che onestamente mi piaceva fino a un certo punto. Tra l'altro questo pop qui ha anche una vicenda un po' particolare, perché in origine era un'esclusiva del Funko Shop. Infatti si vedeva e si vendeva con il bollino Funko Shop, tra l'altro era anche bello richiesto, perché all'epoca dell'uscita andò esaurito anche in un brevissimo lasso di tempo. Per cui è saltata fuori questa versione qui semplice, bollinata Special Edition. L'ho aggiunta col pollice in su da pop in a box, ho detto se me lo mandano ben volentieri, perché comunque a me Ritorno al Futuro piace e me l'hanno mandata. Però è l'unico pop di questi regular qui, di questa regular size che mi hanno mandato, a essere ammaccato, perché qui è rovinato, c'è una bella ammaccatura, e anche qui dietro è un po' rovinato. Quindi questo che dovrebbe essere uno dei pop magari più ricercati, più belli di questo pacco qui, in realtà è l'unico che mi è arrivato davvero rovinato. Ed è un peccato. A me questi pop qui di Ritorno al Futuro mi piacciono, ma non più di tanto, perché secondo me i pop si addicono molto meglio ai prodotti di animazione, Disney o animation tipo anime, non tanto a prodotti in carne rossa, tipo Ritorno al Futuro. Sembrano, non rendono così bene come i prodotti di animazione o mondi o personaggi provenienti dal mondo di alcuni franchise CGI come Star Wars o altri. Questo qui non rende. Infatti ne ho pochissimi della wave di Ritorno al Futuro. Ho lui e poi ho Marty watching a watch, con l'orologio. Questo qui è Marty in jacket, che fa parte della wave di Ritorno al Futuro e del pop 1025. Eccola qua. Questi qui sono i pop, diciamo, regular size. Poi mi sono arrivate delle lezioni un pochino più complesse, versione 6 pollici, e sono questa versione qui speciale dell'unità Evangelion 01, quella guidata da Shinji Ikari. Se ben ricordate, io in qualche video acquisti pop di qualche mese fa, avevo mostrato la versione regular, quella versione normale di questo pop qui. Ebbene, l'ho venduta, l'ho venduta quando ho scoperto che Pop in a Box mi avrebbe mandato questa versione speciale, che io apprezzo molto di più perché è più sfaccettata. Come potete vedere qui, è la versione... Adesso ve lo faccio vedere. È la versione col sangue, non è la versione semplice. È la versione special edition. Come potete vedere qui dal bollino, special edition, proveniente dal mondo di Evangelion. E guardate che bella. Questo qui è il pop nettamente più bello, con questi schizzi di sangue. Nettamente più bella questa versione qui, special edition, rispetto alla versione normale in regular. Poi per tutto il resto, mi sembra per posa, e come colori di sfondo, è rimasto praticamente identico. Ma preferisco notevolmente questa versione qui. Molto, molto, molto più bella per me. Ho venduto la precedente e mi terrò assolutamente questa, perché sono un mega fan dell'anime Neon Genesis Evangelion. Per il momento, ho solamente lui e Asuka in uniforme scolastica. Mi mancano Rei e Shinji Ikari, che prima o poi recupererò. È che volevo recuperare in qualche edizione un pochino speciale, un pochino più bella, mentre mi sa che mi dovrò accontentare nelle loro versioni con la tuta da combattimento. E questo qui è l'unità EVAN 01 di Neon Genesis Evangelion, questo pop qui di 6 pollici, oversize, pop 747 del filone Animation. Adesso arriviamo all'ultimo pop, che anche questo è arrivato un pochino disgraziato, perché si tratta del pop di 6 pollici del mondo seriale televisivo del Trono di Spade, di Game of Thrones, di questo mondo, di questo popolarissimo franchise seriale della HBO, basato sulle cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin. Questo qui è uno dei personaggi più iconici, perché alla fine è il villain, è il villain assoluto dell'intera serie, il non morto, il nostro Night King, il re della notte, sul trono di spade. Il pop mi è arrivato un po' disgraziato, oltre ad avere un po' di ammaccature, alcune cose, mi è arrivato con queste cose qui. C'è questo scotch qui, sia sopra che sotto, e ci sono delle ammaccature. Sembra palesemente uno di quei pop usati che vi arrivano da qualche privato, o comunque che vi vendono al banco degli usati. Ho scritto a pop in a box, mi hanno detto che mi daranno un piccolo risarcimento per la questione. È un pop che volevo, non sono un grandissimo fan delle edizioni pop, Funko pop dei Game of Thrones, io la serie l'ho adorata, ho anche le edizioni, ho un video, vi ho fatto vedere anche il cofanetto della serie televisiva in Blu-ray del Trono di Spade, quella completa, qualche unboxing fa, qualche video fa. Non li ho tutti, e quindi ho voluto recuperare lui, perché è uno di quei villanti iconici, poi in versione speciale, metallica, e quindi ci tenevo. Anzi, adesso ve lo faccio anche vedere, e fa parte della web Game of Thrones di tutti i personaggi principali sul Trono di Spade. Questo qui dovrebbe essere l'unico special edition, nel senso che dovrebbe essere l'unico metallizzato della serie. E si stacca anche, devo vedere se è una cosa normale, o no, sembrerebbe di sì, nel senso che si può smontare. E poi troviamo questa parte qui per tenerlo bloccato, e qui c'è il Trono di Spade, per cui, ecco, sta seduto proprio così. anziché incollarlo, l'hanno... E' molto carino, anche lui bello, metallico, carinissimo, sono soddisfatto. Un pop che mi piace, è preso in abbonamento, quindi pagato poco, ci sta, ci sta davvero tanto. E questo qui è l'ultimo Funko Pop che mi è arrivato in questa prima tranche di 12 pop, in questi primi 8 su 12 dell'abbonamento 12 Funko Pop effettuato su Pop in a Box. prossimamente vi farò vedere anche la seconda tranche, fra una settimana, fra due settimane quando mi arriverà la seconda parte vi mostrerò i restanti 4 pop. Fatemi sapere se anche voi ogni tanto comprate la Pop in a Box, se vi piacciono i pop che vi ho mostrato qui in questo video qui e scrivetemi tutto qui sotto nei commenti se avete dubbi, perplessità, chiarimenti e così via. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e vi do appuntamento da qualche giorno con un nuovissimo eccitante video. A presto! Grazie! Grazie!